ci siamo buon pomeriggio due minuti di ritardo ma ci siamo ecco sofia benvenuta sofia ha mangiato le olive ha mangiato le olive vabbè ormai lo so ha fatto merenda ha fatto la merenda un po di pasta fai capire ai nostri amici che sei sempre a mangiare insomma grazie grazie buon pomeriggio amici di instagram buon pomeriggio amici di facebook ma che cosa sono queste due pagnottine che non si devono schiacciare per nessuno per nessun motivo al mondo alza 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 ciao vale eccoli qua oggi allora ieri nelle stories come avete potuto vedere vi ho dato la ricetta quella proprio classica che ormai è una base pizza che può essere trasformata in molti modi voglio dire nel senso potete farcirla come volete perché è una base che si presta a molte farciture io cosa ho fatto ho impastato per voi ieri sera questa notte ha levitato l'impasto di ricordi sofia abbiamo fatto le pieghe insomma lei era con me nonostante io sempre con me sofia allora a luna luna e 30 ho tirato fuori la pizza come vi avevo anticipato e l'ho fatta ambientare anzi l'ho prima tagliata e poi l'ho fatta ambientare così a pagnottine le ho divise in due una un po più grande io faccio questa qui e tu fai questa che allora aspetta che adesso spieghiamo tutto ok spieghiamo tutto faremo due ricette in una cari amici benvenuti allora dividi piano piano perché si sono attaccati non si fa così se ti aiuto allora tu me la sgonfiare ti prego no no non te la sgonfiare ok allora due ricette in una stavo dicendo sofia non mi do la farina allora la più grande perché io non le ho pesate quindi me l'è venuta una più grande e un più tu prendi la più grande questa aspetta questa grande faremo la pizza e sofia vuole la pizza napoletana perché abbiamo la campagna vuole la pizza napoletana diciamo cosa abbiamo fatto però salsa di pomodoro basilico olio e sale un'oretta prima di farcire perché deve insaporirsi molto basilico mi raccomando chi vuole l'origano ci mette anche l'origano poi laolina io ho messo prosciutto e un po di edamer così a fettine a striscioline poi qualche olivetta perché sofia non vive senza le olive io ve lo dico il topino di cui vi parlavo no che c'è sempre un topo che mangia le olive e poi abbiamo anche quest'altra mozzarella ma adesso vediamo l'altra ricetta sono dei frittini io ho messo all'escaldare olio extravergine d'oliva perché anche io quando sono a dieta frigo in olio extravergine d'oliva perché ha un buon punto di fumo e fa bene le dosi allora abbiamo messo 400 grammi di farina un grammo di lievito di birra perché meno lievito mettiamo e più deve lievitare quindi siccome io l'ho preparata ieri sera cosa ho fatto ne ho messo una minima quantità perché doveva lievitare in frigo quindi tutte queste ore guardate che bella a voi prendere è come un bambino piano un neonato io prendo questo perché adesso iniziamo a stendere ma certo fa le bolle 400 grammi di farina sofì piano per favore 400 grammi di farina circa 250 grammi di acqua ok ciao maria due cucchiai di olio un bel pizzicino di sale che sono circa 6 grammi un grammo di lievito l'ho detto e poi non mi ricordo più basta intanto certo allora maria certo la diretta viene salvata invece instagram verrà salvata su ij tv anche su youtube siamo con le dirette salvate fatima ciao ti vedo la seconda volta ma dall'espressione vedo che sei pronta per la cucina sei bella e prima di voglia brava grazie grazie mille giuseppina pomeriggio maria ciao e paola gli occhi a cuore con un bellissimo cappellino pulicini allora questa qui la devo stendere però siccome l'olio è quasi pronto io vado a tagliarmi questa allora ti faccio vedere perché sennò abbiamo ok ok ho visto grazie metà di questa così facciamo allora sono due panetti uno ci facciamo la pizza però aspetta perché l'olio è già pronto io devo andare a frigge fate dei come si chiamano dei pezzettini così tu leggi sofia mi raccomando sono poi possiamo farcirli io ci metto un po di prosciutto guardate lo stendo leggermente vi vedete amici allora stendo farcisco ci metto però questo secco perché se metto la mozzarella molle in frittura succede angela angela buon pomeriggio tina miss mi spieghiamo perché il lievito madre quando faccio il pane si sente un odore di a gli puoi spiegare perché sento l'odore di aceto allora quante volte rinfreschi il lievito tuo madre quante volte al una volta a settimana basca è e poi prima di fare il pane lo rinfreschi aspetti quattro ore il suo raddoppio perché ci sono delle cose molto importanti da sapere la devi stendere di più e quindi prima di fare a ci vuoi mettere un'olivetta e un po di formaggio perché senti l'olio che è pronto si allora chiudi farciamo e chiudiamo quindi mandami anche le foto su tina in cucina scrivimi sul gruppo sul gruppo o sulla pagina tina in cucina e vediamo come possiamo ovviare questo problema io vado a fuggere ciao c'è ragazze pure in questa se apri io questa sera pizza ciao grazie intanto isabella buona la pizza aspetta flora sei bellissimo ora ci metto perché io poi devo cambiare un po di pomodoro ma ma un saluto dalla puglia io la sto studiando la puglia sia dalla campagna siamo passate alla l'unzia buon po di pomodoro benvenuti merino ciao sepania buon po di pomodoro e buon po di pomodoro questa la faccio fritta facciamo una sorta di della pizza fritta piano sofia perché sennò esplode nell'olio ci metto io il pomodoro guarda senti allora guarda stai facendo sotto mi vado eh pizzette si sono delle pizzette isabella l'impasto che vi ho detto lo dividiamo in due uno ci facciamo la pizza che adesso la facciamo tra un pochino perché l'olio era pronto ho iniziato a friggere io e qui ci mettiamo vedete fatemi tagliate dal vostro impasto delle piccole dei piccoli pezzettini di pasta ci mettete io adesso c'ho prosciutto perché quello che ci abbiamo sempre a casa prosciutto cotto piace a tutti formaggio cercate di prediligere un formaggio oscamorza o edame secco perché se mettiamo la mozzarella fresca con l'olio sappiamo che l'acquina poi maria aspetta maria ciao per la prima volta ho fatto le caramelle con lo zucchero bravo le caramelle con lo zucchero ah io non le ho mai fatte vedi bravissima patrizia su su al lavoro al lavoro ragazzi poi abbiamo lorena ciao da sora bocche da sfamare ecco ti piace chiudi meglio bravissima sofia ottimo lavoro aiuto vai dietro no e no grazie lorena antonella sono in treno e la connessione non è delle migliori tina salva la diretta che più tardi me la vedo certo c'è una stortonella certo dirmi un po dove siamo sofia su youtube siamo su youtube tina pigna siamo su tik tok ciociolatina pigna siamo su instagram ciociolatina siamo invece su luccellino come si chiama twitter siamo su twitter tina pigna le dirette restano salvate su tina in cucina su facebook e anche su instagram di gtd e su youtube tranquille quindi daniela mmm buon pomeriggio un frittino per l'antipasto e poi serviamo la pizza cioè che volete allora patrizia saluti dalla sardegna e isabella fagottini 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 un po quello che ci piace pina buoni becci qua potete mettere anche dei funghetti cioè io voglio far vedere questa bolla avete visto che bolla che fa questa bolla qua non so se la vedete poi questa pizza se voi mettete poco lievito e la fate lievitare nel frigo tutta la notte sarà ancora più digeribile perché ha maturato cioè proprio io da quando ho scoperto questa cosa la faccio spesso perché voglio insomma che la pizza qualche anno fa quando io inizio a cucinare mettevo un cubetto di lievito di birra ma è troppo ragazzi cioè mi si gonfiava la pancia stavo male invece poco lievito più tempo è perfetto allora maria maria ieri io ho fatto i bignè come li hai fatti tu sono venuti buonissimi gina wow che bella sono venuti sul gruppo di tina e cucina elen good datt e la mikchen guten tag guten tag da monaco da minchen grazie ines welcome e willkommen non acquoso mozzarella scamorza si si non è acquosa è un po più secca no grazie agli occhi acquirici no anna me ne passate due ma certo guarda non appena inventano un dispositivo allora anna bella cosa cosa buonissima saluti dalla saluti del kill da reggio emilia benvenuti siete simpaticissime un saluto da reggio emilia liliana ciao belle buon pomeriggio buonissimo abbraccio fatima anna se ne possono avere due aspetta non ho capito se ne posso avere due buon bel mi sono carini questi qua questi ci potete mettere anche che ne so le alghe cioè io da piccola mangiavo i frittini con le alghe che anche al ristorante li fanno buonissimi eh per chi è al mare e può angela ciao fatima grazie russelli buon pomeriggio soffiettina il mio nome è emma un abbraccio albero emma e il cognome è russelli emma scusaci ma noi leggiamo di fretta e allora sbagliamo pure scusaci è il cognome fanno più attivo attenta il pomodoro non deve uscire ecco allora amici il pomodoro se li farcite col pomodoro non deve fuori uscire perché nell'olio succede un putiferio no stiamo attenti si stiamo attenti e poi friggere la mamma o il papà perché i bambini col fritto guarda Sofia che ha fatto è uscito tutto il pomodoro fuori ma non fai lì Anna saluti da Paestum 3 grammi di limito sono proprio niente e viene una levitazione leggerissima perfetto mi si è aperta Anna Franca c'è un saluto da tra... a Taranto Taranto ciao Fabiola ciao Fabiola Ines io ho fatto una portami portami ah portami portami una una spadella sì Roberto Poporiggio buone Maria ti segui sempre peccato che adesso devo andare a lavorare ma tanto prendo le ricette un saluto dalla Germania buon proseguimento grazie al prossimo video allora guarda tanto restano salvate Fatima va in bicicletta Raffaella ciao Sofia sono Raffaella e ti adoro grazie anche ti adoro ciao Fabiola 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 è stata molte volte a Pestum per i siti archeologici comunque ciao Francesca ciao Valeria ciao Daniela benvenuti anche broccoli anche broccoli di raffa ciao ci si è aperto eh lo sapevo succede questo ok adesso prendo il sfido un saluto dal Salento ciao Fabiola dal Salento un saluto il meraviglioso Salento allora continui tu qui perché io volevo fare una pizzetta un po' scenografica no? l'altra volta abbiamo fatto la pizza quella tipo girellosa no? oggi volevo ho preso spunto anche un po' sulla rete volevo fare una pizza un po' strana Sofia se me lo permetti te lo permetto meno male che c'è? devo dare sfogo alla mia fantasia e con la nutella per merenda ma certo Ines guarda mi hai dato un'idea questi qui se li friggete senza niente cioè friggete le panchine no mamma no 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 dentro li friggete con la nutella ok oppure dopo una volta apriti intingete o se no con il cucchiaio fate questi con la nutella e poi lo zucchero a velo si vede che sono a dieta c'ho voglia di dolce no tanto ciao Maria da Genova anche noi stasera a pizza ah Rita siete stupende baci da Napoli ciao Enza ciao belle Rosa un bacio da Monopoli provincia di Bari benvenuti benvenuti mamma aspetta che ha già fatto regolio grazie Sofia ha fatto anche il violetto certo sente la mamma che è campana che ha già fatto niente guarda mi viene così ma proprio dal cuore dal cuore che ho piccolo piccolo ma non è vero Katia buon poveriggio siete bellissimi complimenti aspetta che si è studiato qualcosa ci sta chiamando qualcuno no è un messaggino ok fatta si giga per un mese giga noi servono i giga noi andiamo avanti con i giga quindi scherzo senza i giga vabbè senza i giga non possiamo fare dirette allora andiamo avanti quindi questo è pronto e quello lo giriamo via su forza le montanare amici miei campani napoletani voi che cioè le conoscete più di me allora le montanare cosa si fa è la pizza poi si fanno delle dei dischetti un po' più grandi pure si friggono così senza farcia poi una volta fritte si ci va a mettere il pomodoro il formaggio grattugiato mozzarella immacolata da casetta ma scusami Tina devo trovare la ricetta dei cornetti i cornetti allora su tinaincucina.it il sito di mamma si Fabio saluti dalla Svizzera naturalmente andate su google e scrivete o se no mamma metterai il link voi dovete cliccare il coltello allora dopo Francesca se vuoi dopo ti alleggo qui su dove mi state scrivendo anche i cornetti ok alleggo il link allora Francesca noi a Cerveteri provincia di Roma ma da lei la buon pomeriggio Linda cosa state preparando? allora stiamo preparando che è successo? ah stiamo preparando allora l'impasto mio quello solido della pizza che ieri nelle stories andate a vedere le storie di Tinaincucina che sono ancora ancora non sono 24 ore ci sono ancora c'è la ricetta della pizza ma io adesso ve la ridico ho impastato la sera ho fatto lievitare tutta la notte perché ho messo poco poco lievito ciao Mara oggi è le 13 ho tirato fuori l'impasto l'ho diviso in due panetti uno ci abbiamo fatto le frittelle cioè guarda apriamo facciamo con prosciutto scamorza olive pomodoro chiudiamo a pallina e friggiamo chi più ne ha più ne mette è un buonissimo antipasto infatti stavo dicendo prima ai nostri cari amici che se ci possono mettere anche le alghe le zucchine non so quello che vi piace il basilico la salvia mettiamo tutto quello che ci piace tipo delle frittelline no? come al ristorante e le andiamo a friggere con quest'altro impasto adesso vi spiego come fare questa pizza che è molto scenografica e sono fiera di farvela conoscere forse alcuni di voi già la conoscono però voglio insomma volevo mettere anche sul blog questo qui nel cucina allora questo qui è un po' di cacciostello lo faccio mostrare ciao male scusa che ti ho scritto in privato ma niente niente cosa c'è? c'è del niente stai tranquilla vale vale? no tranquilla tutto a posto vale allora il poco pomodoro perché se la missi la pregono qui lo so mamma ma visto che io sono amante del pomodoro eh lo so lo so e non schizzare perché ahhh non c'è il pomodoro eh Sofia basta pomodoro ti è arrabbiato a me non ci creda allora ti è arrabbiato vai Sofia aprila in diretta fai vedere hai amici di Instagram e hai amici di Facebook allora tu esci fuori via tu non ci sta niente come ci sta niente allora quella semplice no come ci ho messo il prosciutto eccolo guarda allora adesso Sofia finisco qui questo è aperto la facciamo al forno sulla missi Emilia come fare una pizza senza le lievitazioni allora è la pizza senza lievitazione è un po' difficile da fare però che pizza è allora noi siamo dell'idea o si fanno le cose per bene o non le si fanno però pizza senza lievitazione col bicarbonato basta col ceno d'oro perché schizza tutto infatti questo è lo faccio al forno basta 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 quando è finito la fai uscita e la fai uscita ok? allora adesso vodevo passare alla pizza cari amici Sofia basta con quello che vuole allora prova col bicarbonato di sodio e la fai riposare l'oretta e poi la stendi allora io vado questo qui dovrebbe essere un cerchio perfetto ma non è un cerchio perfetto dopo mi porta mi conferrà però quanto si va ciao Melina no aspetta ciao Amelia 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 Luca no mi si è staccata no no non l'ho spolverata di farina brava mamma sei un mito guarda sei un mito ciao Veronica ciao poi dovete sapere allora oggi è una giornata piovosa basti a ombra cioè sta piovendo da stamattina adesso ma tutto un nivolo lo so però io sto bene vedete che sto bene perché io non amo tanto il caldo soltanto che tiro un vento gelido fuori che proprio è il massimo Sofia è freddo tuoi allora quindi ciao Patrizia a casa però è caldo quindi gli impasti proprio lievitano che è una bellezza infatti stamattina ho ricatto l'impasto delle ciabatte perché ieri ci ho fatto le biscottele come avete visto vedere dall'istore e oggi faccio le ciabatte il pane tipo ciabatta così ho sia biscottele che ciabatta ecco bravo lo stiamo aiuto ecco qua allora la mia idea della pizza era questa guarda Sofia allora facciamo come l'orologio tagliamo al centro senza arrivare al bordo non so se si vede cari amici eh così non tagliamo il bordo solo qui al centro ciao Michelina Giuliana Michelina Michelina e Francesca metti sempre la farina sotto eh lo so ciao lo so solo che adesso per la fretta sono un po' così no? il bello della diretta è sempre così allora finito? aspetta mi tolgo questo dente da qui se no tu mangi proprio bene ma guarda che è il violatore all'interno l'hai fatta vedere i nostri amici così la rifanno anche loro? noi dobbiamo far vedere quello che facciamo allora avete capito amici facciamo una croce senza però andare a tagliare sì Isabella il bordo sono sofficissimi poi ne facciamo un altro prima facciamo la croce così e poi la facciamo dall'altro lato ciao Silvella poi aspetta non ti attaccavo eh se no tutto il mio lavoro è vano allora così si vede Sofia? mhm mhm ma che è tuona o è una macchina? è quella? no sentivo aspetta questo lo spengo no mi dimentico è di là allora ora che facciamo? vado a forcire la pizza avete capito? grazie Emilio allora ci dice buon lavoro Emilio grazie ah non l'ho tagliato di qua ma vedi che è pronta aspetta beh la tagliamo anche di qua ho tagliato dall'altra parte quindi va bene mamma non è successo nulla poi andiamo a farcire qui tutto il bordino ciao Lucia che cosa facciamo oggi? la pizza possiamo ripetere gli ingredienti? la pizza 400 grammi di farina voi potete fare anche 200 grammi di farina rimacinata di grano duro oppure 200 di zero oppure tutta zero oppure tutta semola come volete quindi 400 grammi di farina poi mettiamo due cucchiai d'olio circa 250 grammi di acqua un bel pizzicotto di sale che sono all'incirca 6-7 grammi così è bella saporita ma come scotta scotta mi arriva il fumo poi mettiamo un grammo di lievitio di birra se la vogliamo impastare la sera così è più digeribile matura nel frigo perché io l'impasto di solito della pizza lo faccio la sera per il giorno seguente Isabella mi adora vedi Michelina sono buoni sono buonissime poi Marilena si chiama con me cioè Marilena Sofia Marilena Sofia bello il nome Emilia scusa e poi se lo volete fare in giornata l'impasto tranquilli mettete un 10 grammi di lievito di birra fresco altrimenti 5 secco e lo fate in giornata io ho comprato il babà con il lievito madre potete fare anche quello con il lievito madre ho imparato il babà il babà l'hai fatto noi lo faremo presto adesso che mi organizzo perché è un lavoro un po' valentamente ho impostato alle 11 posso farli direttamente tutta la posso farli aspetta non ho capito rileggi posso farli andare tutta la notte visto che va lentamente si se metti poco lievito si si meno lievito mettiamo e più ore devono lievitare scusa ma fuori o dentro il frigo allora io dentro il frigo per tutta la notte perché adesso che è caldo è stralievita no no in frigo ciao Ilaria mua allora io ho messo prosciutto non ci arrivano c'era che cosa ma lasciati un acquapino qualcuno acquapino su da su allora prosciutto poi mettiamo questo qui che abbiamo detto che è edamer mamma non facciamo una rubrica ormai allora asiago un po' di tutto va bene poi così tutto intorno intorno capito amici 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 di Tina e Puccino amici di Tina e Sofia oh ciao rosa bene bene ma lo so che è morbido non me lo farò vedere che io non posso mangiare come buono anche se è fritto favore un pochino una volta a settimana bisogna il bene è buonissimo e lo so che è buono Sofia e lo so ci credo che dolcezza guarda 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 io non ho favore vabbè ti voglio bene anch'io ok che profumino ragazzi questo è un proprio come si dice tipo quei cibi da strada no buonissimi basta olive no se non puoi si aggiriano no ehi metto ancora no basta dai sono dopo poi una volta fatto così che facciamo cosa mangi di buono io mangi aspetta facciamole vedere abbiamo fatto delle frittelle di pizza perché il mio impasto è buono anche per essere fritto quindi uno l'abbiamo diviso in due un po' fritto e un po' a pizza cioè proprio carabinato c'è l'oliva c'è l'oliva c'è l'oliva qui brava vero guardate che buoni cioè io non ho parole vabbè poi volevo fare così Sofia guarda volevo fare una pizza un po' così chiudiamo gli angoli vedete non ti rompere non ti rompere vado a chiudere gli angoli è più così carina un po' più sfitti se no non mangio sempre le stesse cose no veronica grazie prego rita ciao dalla sardegna grazie benvenuti Lucia Sofia lo fa apposta si lo fa apposta brava cioè proprio mi fa uscire gli occhi dall'orbite dalla fame però va bene io sto con le mie verdurine la frutta e vabbè carboidrati non li posso sentire neanche cioè non devono esistere per la prima settimana però sono stata brava sono stata brava sono forte io sono forte vogliamo andare avanti per favore allora la pizza vedete è tipo un girasole di pizza carina l'idea io me lo mangerai intero no adesso devi cuocere io poi prima di infornare la pizza la faccio stare circa un 15-20 minuti adesso che state ne vengono anche mezz'ora 40 minuti mangialo mangialo tranquilla sono serena guarda sono serena ho una fame allora basta il caffè non c'è il grasso di ciaveria ma grazie no ma sai perché ho esagerato con i dolci io e siccome mi conosco hola hola chica e quindi devo stare attenta perché cioè non è che posso morire di diabete voglio dire no no pensa alla salute allora questa è la mia idea della pizza quindi diciamo un impasto per la pizza 400 grammi beh cioè qui ci mangiano dai tre persone ci mangiano noi siamo in tre sono raddoppiate le dosi più le frittelle cioè veramente io direi che noi ci mangiamo in tre quindi è un bel salvacena una serata pizza tra amici adesso che ci possiamo con calma però ci possiamo vedere con le mascherine mangiamo insieme una pizza perfetto noi noi ora ora inseriamo inseriamo non vogliamo esagerare ora inforniamo no il forno non è pronto io inizio ad accenderlo tra 20 minuti che lui sarà pronto andiamo a infornare che ne pensate amici intanto metto al massimo così a bomba si riscalda e poi dopo vado ad infornare la pizza quindi poi queste qui Sofia che sono venute un po' vedi c'è il pomodoro che esce aspetta 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 dimmi che hai fatto a fare la mozzarella che mozzarella eh quella lì la facciamo in un altro modo guarda queste qui le continuiamo a farcire oh scusa mi chiede fermate noi abbiamo finito le nostre ricette allora queste qui le finiamo no? noi intanto finiamo abbiamo finito le ricette ma io sai che ti dico queste qua ci faccio le montanare le vogliamo fare amici le montanare? guarda eh ok vabbè perché mi è avanzata la pizza la pasta allora così volete stare in nostra compagnia? ma certo i nostri amici stanno in nostra compagnia queste qui vi dicevo le montanare che i miei conterranei le conoscono della campagna è Napoli la regina della pizza cosa facciamo? le andiamo a friggere ho spento l'olio ma adesso lo riaccendo le andiamo a friggere tanto la cucina bellissima sporca proprio che è una bellezza lo sai che è bella la cucina? è bellissima è vissuta no? si manda sempre e la mamma pulisce poi queste qui quindi cari amici le friggiamo così una volta fritte le farò insieme con voi in diretta ho capito ci mettiamo il pomodoro alcuni ci mettono il formaggio grattugiato correggetevi se si parla pomodoro a media pomodoro formaggio oppure la mozzarella quanto deve stare in forno Giuliana? un 30 minuti in forno 20-30 minuti io adesso non conosco i vostri forni però vi consiglierei di mettere a 180 gradi per 20-30 minuti ho ripetuto gli ingredienti per la sanna ma certo allora 400 grammi di farina potete scegliere voi la farina o 0 tutta 0 o semola rimacinata di grano duro la saragolla questa gialla no? quella per fare la pasta no? che fate? 400 grammi di farina poi mettete circa 250 grammi di acqua 6 grammi 7 grammi di sale un bel pizzicotto 2 cucchiai all'incirca di olio e un grammo piccolino di lievito di birra se impastate la sera perché come ho detto prima meno lievito mettete più ore deve lievitare se voi però la volete fare tipo la mattina per la sera mettete 5 grammi di lievito perché in 2-3 ore sarà pronta ma voglio dire mettete neanche 2 grammi perché col caldo che fa adesso la mattina sarà lievita quindi vi direi di impastare verso l'una del pomeriggio se la volete fare per la sera che in 2 ore è pronta con 10 grammi di lievito di birra fresco o 5 di sette che è successo? non vedo ti apulisco io ok chi è? oh mamma mia è saltato l'olio eh fammi togliere la pizza da qua perché Tisa dove sei esattamente? ah dove sono ora? siamo a casa noi siamo a Bastia Umbra ah aspetta no siamo in montagna no siamo a Bastia Umbra è la bellissima Umbria ormai da 12 a no saranno pure 13 però sono di origine campana e sono beneventana di solopaca veramente sono nata a Benevento allora ho vissuto a solopaca allora che altro? quindi queste quale dobbiamo friggere parliamo un po' amici parliamo un po' amici ditemi qualcosa allora ho finito mamma sì adesso voglio far vedere la montanara come si fa alcuni già lo sanno ciao Angela no mi permette Valentina Fabiola aiutatemi che c'è? la tenda fuori allora Sofia vuole mettere la tenda fuori sotto la pioggia mi dite voi come posso fare io? sta piovendo lo so che è impermeabile però va bene però dobbiamo stare attenti con la salute non ti puoi bagnare ti dobbiamo stare bene voglio dire allora olietto olietto mio vado eh io vado stavo facendo così perché ho un po' di freddo è andata è pronto ditemi qualcosa che bella che siete Sofia tu sei una mitica grazie Sofia è una mosca si mette qua mamma mamma c'è questo mamma però è stata brava con i compiti quindi la devo premiare è sotto la pioggia ti devo mettere dimmi mamma comprami qualcosa no no sotto la pioggia sotto la pioggia bene va bene no mi piace guardate che meraviglia adesso poi c'è la mia amica adesso perché noi dal balcone no le cose abbiamo il cestino non con la corda non ci possiamo vedere comunque ti saluto Giusy ciao ti saluto allora io adesso vi porto le montanare prendo un altro piattino perché così vi ho dato tante idee perché questa pasta è molto versatile è molto versatile va bene qui no serve a me no va bene non è stato a mangiare un altro posita ormai allora eccola qua hai fatto la figlia maigliona che ti vuoi che va bene che pazienza mi vuoi fare lo stesso ma certo amore mio ma come che discorso è che questa scotta allora vedete come si è gonfiata adesso io che faccio lo sgonfio un po' perché sennò non ci va la montanara si fa così pomodoro e basilico mi raccomando fate questo intruglio prima un'ora anche due ore prima pomodoro basilico tanto basilico sale e olio perché anche origano se vi va si insaporisce molto ok poi mettiamo o formaggio grattugiato io in questo caso voglio mettere la mozzarella se avete la mozzarella di bufa vabbè meglio ancora vabbè ci accontentiamo e questa si mangia in un solo boccone io lo farei ma non posso quindi che ci dicono i nostri amici quanto tempo nel forno il girasole allora questo qui va per qui scusate si 15-20 minuti a 180 grammi non conosco i vostri forni però deve dorare deve cuocere bene insomma noi abbiamo fatto vedere come si facevano tutti i tipi di pizza vabbè ora tocca a voi ora vi lasciamo parla su perché io si non si parla col boccone allora noi vi lasciamo qui io vado a mettere a posto perché è un casino e ci vediamo aiuto ci vediamo domani sempre alle 16.30 con un'altra ricetta come sempre per tenervi compagnia Sofia mangia e salutiamo Samantha aspetta Sofia Sabrina ti vuole dire una cosa ti consiglio di fare teatro ah vedi da piccola scuola hai fatto teatro un pochino a scuola elementare perché no guarda così era una scena no eccola adesso quella scena ah sì è successo il maestro indietro la tenda eh era emozionata su era emozionata ci sta allora voglio mangiare non parlare col porconello non mangiare allora io vado a friggere le mie Isabella li può spedire a suo figlio cosa? li può spedire a suo figlio Isabella ma che vuol dire? ma che vuol dire? la pizza? certo no li posso spedire a mio figlio che dici? che cosa? spedire? non ho capito sofia dimmi non ho capito scusate Isabella li posso spedire a mio figlio che dici? ma così fatti non so dove devono arrivare per posta e mangiare ma io che ne so ma io che ne so allora adesso è meglio questo è meglio farle cotte e mangiate perché altrimenti non so cioè per la fine è meglio non so se ho capito bene ciao nonna aiutaci tu ciao nonna ciao nonna ah tanti auguri tanti auguri tanti auguri non mi era nonna che oggi è il suo compleanno nonna tanti auguri in diretta ci siamo ricordati insieme a parte io la prima cosa che ho fatto mi sono sottolineata ma secondo me oggi è il compleanno di qualcuno di qualcuno ma sai che è il compleanno di nonna? ah ecco qui era il compleanno allora noi vi lasciamo con il girasole ci vediamo dopo con le foto perché metterò le foto sul sito tinaincucina.it e allegherò anche il link sul gruppo di tinaincucina e la pagina tinaincucina e vi aspetto domani ormai quindi è andata a domani buona cena fate le pizze ciao un bacione a tutti ciao 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 Grazie a tutti.